Andrea Biancani, il nuovo sindaco della città in maniera ufficiale, vi consegno la fascia tricolore che indosserà per i prossimi giorni. Il passaggio di consegne che si è tenuto questa mattina a Pesaro all'interno della Sala Rossa tra il sindaco uscente Matteo Ricci e il neo eletto Andrea Biancani ufficializza la nomina sindaco della città di Pesaro del secondo. La simbolica fascia tricolore che passa di mano tra il neo euro parlamentare e il neo sindaco sancisce così l'inizio del nuovo ciclo amministrativo per il capoluogo pesarese con un Biancani che accoglie orgoglioso questa nuova sfida politica e amministrativa. È un momento che quando uno lo vive poi si entra tutto il peso di quello che è il nuovo ruolo e sono ovviamente molto contento, c'è stato questo passaggio di fascia con il sindaco Ricci che ho voluto ringraziare per il grande lavoro fatto in questi anni ma ho voluto anche ringraziare tutte le liste, tutti i candidati, tutti i volontari che in questi mesi, in questi due mesi ci hanno consentito di portare avanti un'ottima campagna elettorale. Ho anche annunciato che è mia intenzione ribadire e confermare i consigli di quartiere ritengo che i consigli di quartiere siano importanti come luoghi di condivisione, di partecipazione e di coinvolgimento di tutta la cittadinanza chiederò anche a molti dei candidati per il Consiglio Comunale che ovviamente non sono stati eletti la disponibilità di impegnarsi anche per i consigli di quartiere perché ritengo che comunque sia importante anche il ruolo del consigli di quartiere e quindi ce la stiamo mettendo tutta. Mi sono preso almeno un paio di settimane di tempo per riuscire poi a mettere in piedi la squadra di governo e ovviamente se riusciremo a farlo prima lo facciamo prima ma non ho né ansia di prestazione con gli altri comuni che fanno prima o fanno dopo io voglio fare il mio lavoro con la serenità e l'attenzione che è necessaria per nominare una squadra di governo perché nominare la giunta non è una cosa di poco conto dopodiché farò i primi incontri, il primo incontro che vorrò fare è quello di convocare le guide turistiche perché le ho incontrate e hanno bisogno di condividere con l'amministrazione alcune cose perché siamo ovviamente capitale della cultura tra le prime cose che ho chiesto al dirigente è quella di comunque garantire l'apertura magari anche l'orario di pranzo per quanto riguarda i nostri musei e di riuscire ad aprire anche il Teatro Rossini gli ho chiesto di fare delle verifiche e di capire con chi oggi gestisce queste strutture come è possibile farlo e mi auguro anche perché in parte me l'hanno già anticipato che sarà una comunque delle richieste e delle guide turistiche Parole di elogio e di fiducia a quelle che arrivano da parte di Matteo Ricci che lascia a Biancani un'eredità importante ma di cui, secondo l'ormai ex sindaco saprà farsi carico dando il via a una nuova stagione per la città Noi siamo una squadra, siamo una generazione cresciuta insieme ci conosciamo da quando siamo ragazzini, abbiamo fatto tutti i percorsi politici comuni con lui, con Vimini, con Nobili, con tanti altri quindi ognuno di noi ha le sue caratteristiche Biancani sarà sicuramente un sindaco diverso da me, come è giusto che sia perché ha le sue caratteristiche, le sue peculiarità, farà cose diverse avrà un'impostazione per molti aspetti diverse, come è giusto che sia però al tempo stesso noi abbiamo un filo conduttore che è legato non solo dalla nostra storia ma anche dai valori che ci legano, dall'idea di società una società più giusta, una società con meno disuguaglianze e soprattutto siamo legati da questa esperienza popolare molto forte che abbiamo in città quindi ci sarà una continuità nei valori e ci sarà anche una novità nell'approccio del nuovo sindaco così come è giusto che sia Nemmeno il tempo di ricevere la fascia tricolore che è il tema dell'Europa prende subito piede tra Biancani e Ricci dove i ruoli ora sembrano invertirsi se prima infatti Ricci parlava con Biancani per un sostegno dalla regione ora è il neosindaco a parlare con l'europarlamentare per un sostegno dall'Europa Io in questi anni ho portato decine e decine di migliaia di euro e quindi ho fatto la mia parte ovviamente ho detto a Ricci che bisogna che adesso porti i fondi se no incomincio ad attaccarlo perché un parlamentare europeo i soldi sono tutti in Europa ovviamente sto scherzando ma gli ho detto a Ricci di avere un'attenzione non solamente a Pesaro ma a tutto il territorio perché i fondi sono importanti sia per riuscire a fare soprattutto gli investimenti a volte anche per far attivare alcuni servizi Lui devo dire che ci ha aiutato a portare tante risorse dalla regione in questi anni e io cercherò di fare altrettanto ce n'ha già molte in cascina già prese negli anni scorsi non solo PNRR ma tanti altri progetti vinti però sicuramente cercherò di impegnarmi dall'Europa non solo per Pesaro ovviamente ma per tutto il territorio marchigiano grazie a tutti grazie a tutti